Ankaleb Walker 2 rematch dopo che il primo match era stato sospeso a casa di colpi bassi da parte di Ankaleb ripetiamo il match e c'è stato un epico finale un grande KO da parte di Ankaleb un bel colpo aumento dopo che sono andati a corta distanza ne è uscito vincitore Ankaleb buttando al tappeto Walker che poi ha preso un altro colpo e dopo c'è stato lo stoppage da parte dell'arbitro il match durante il primo round è partito con un buon Walker che portava dei calci molto belli ha portato dei calci ad ascia dei calci al viso anche improvvisato una capoeira certo molto scenico ma di concretezza ha tirato poco diciamo è entrato a segno sì qualche low kick qualche middle kick ma poi alla fine anche Ankaleb ha messo qualche colpo di risposta insomma un primo round forse leggermente a favore di Walker ma non di grande misura insomma nel secondo round invece Ankaleb ha cercato di venire un po' più avanti di mettere pressione e questo suo modo di Walker di uscire dai colpi quindi saltellava molto e secondo me si scopriva in questo suo modo di portare questi colpi scendici come calci ad ascia o comunque combinazioni belle da vedere ma rischiose perché lasciava il volto scoperto molto spesso con le braccia scomposte quindi questo poteva far sì che Walker con la sua astuzia e scaltrezza del match potesse appunto approfittarne e questo è stato infatti quel colpo aumento durante una combinazione a corta distanza si è portato a casa al match come sappiamo appunto l'UFC l'MMA basta un evento basta una piccolezza per far sì che il match finisca un colpo con i guantini da quattro once di pesi abbastanza elevati ma anche pesi più leggeri basta un colpo portato bene e il match finisce sappiamo poi appunto che è difficile rialzarsi quando si prende un colpo aumento che scuota il cervello in quella modalità e abbiamo visto appunto come non ce l'ha fatta quindi un bel match i due fighter sicuramente anche Alev che era un tre in categoria nella sua categoria il terzo in classifica potrà sicuramente optare a sfidare il campione mentre mentre Walker da rivedere sicuramente le sue modalità di stare in guardia e di coprirsi durante gli attacchi degli avversari più pericolosi perché questa sua modalità molto bella da vedere può essere idonea contro avversari di più basso rango ma sicuramente quando andiamo ad affrontare combattenti più esperti più forti che con un shot ti fanno male secondo me da impostare il suo incontro in una maniera più composta più ordinata braccia su e lavorare con combinazioni più essenziali meno con qualche adasha meno girati meno capoeira più fare kickboxing bella kickboxing pura 1 2 lo geek rientrare magari ogni tanto front kick e poi se si va a terra lavorare col jiu jitsu questo è quanto secondo me bisogna essere minimale non impostare questi match con grandi ecco spettacoli per il pubblico ma se si vuole vincere ma essere più efficaci e meno spettacolari come fanno i daguestani i russi sono dei combattenti spesso che impostano i match alla concretezza è quello che li rende di successo secondo me appunto questo che non vanno tanto per a fare draghi ma vanno sicuramente appunto al minimalismo alla concretezza delle mma quindi ragazzi bel match guardatelo se non e quindi